Ebbene sì, il 30 novembre terrò a Bologna il primo corso di video marketing immobiliare a un ristretto gruppo selezionato di homestagers. Questo evento è stato ideato e fortemente voluto da due splendide professioniste dell'homestaging, Mirna Casadei e Francesca Martinelli. Sono amico di Mirna da ben prima che diventasse la homestagers più famosa d'Italia, con le sue partecipazioni alla trasmissione Detto Fatto su Rai 2. È la mia homestager di fiducia, a lei affido gli allestimenti di tutti gli immobili delle mie agenzie ed è intervenuta anche nel mio videocorso. Un bel giorno le parlai del mio progetto e vidi i suoi occhi illuminarsi. Bello! esclamò. Come si fa? Vieni che ti faccio vedere. Siamo andati su un appartamento che aveva appena allestito e alla fine di una mattinata di training girò tutto da sola il video che puoi vedere per intero cliccando sul link che trovi in questo articolo. Devo assolutamente far conoscere questa cosa alle mie colleghe! esclamò allora salutandomi. Dopo qualche tempo mi presentò Francesca, una modenese che mi ha subito stupito per la sua intraprendenza. Nonostante sembri una ragazzina, ha un bel po' di esperienza alle spalle. E non è solo un home stager, ma anche una collega. Infatti ha preso il patentino e ha aperto una sua agenzia immobiliare. Anche lei mi fece un sacco di complimenti per i video e per il mio progetto. Facciamo qualcosa insieme? mi dissero allora. Perché no? Queste due ragazze, come è giusto, hanno grandi ambizioni, hanno competenze di alto livello e approcciano con il giusto atteggiamento che è prima di tutto dare valore. Per il loro nuovo cammino formativo insieme hanno deciso di iniziare proprio dal video marketing immobiliare, consapevoli che è un servizio fondamentale di cui ogni agenzia immobiliare avrà bisogno nell'immediato futuro. Da qui nasce questa data, a brevissimo il 30 novembre, in cui sarò a Bologna per un'intera giornata di training pratico del mio sistema. Un appuntamento che loro hanno battezzato The Home Staging Video. Lo scopo è semplice. Alla fine della giornata nascerà il primo gruppo di video home stagers. 18 professioniste che saranno in grado di produrre da sole video emozionali delle case che allestiscono, potenziandone enormemente le possibilità di vendita. Sì Paolo, ma come mai condividi il tuo progetto che nasce per noi agenti immobiliari con delle home stagers? È semplice. Sono consapevole che solo un ristretto numero di agenzie innovatrici si attrezzerà subito per fare video marketing immobiliare da sole. Ma so anche che gli altri, trascinati dall'onda del cambiamento, presto chiederanno questo servizio. Quando ciò succederà, e sarà presto, alcune home stagers illuminate saranno pronte a soddisfare questa esigenza e il video marketing immobiliare evolverà molto più velocemente. Ora, caro collega, prova a pensare di trovarti davanti a una di queste affascinanti video home stagers che avrà uno strumento potentissimo per aumentare le tue vendite, creare il posizionamento della tua agenzia come mai è stato fatto in passato e farti acquisire un sacco di immobili in esclusiva. Pensi di poter fare a meno di lei? Cos'è pure il posizionamento? Ah, devo spostare l'ufficio? Ecco, ora sai perché hai bisogno di una video home stager. Se ne incontrerai una, tientela stretta, fattela amica, coinvolgila nel tuo business e avrai l'asso giusto nella manica per vincere la partita. Ragazze, vi aspetto, io sono pronto. Si va in scena il 30 novembre. Non mancate. Ciao. Ragazze, vi aspetto, io sono pronto. Sì, vi aspetto. Grazie a tutti